Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Power Tennis Finalissima del singolo del torneo Peach Il torneo contro gli eroi di Super Mario Ebbene, oggi finalissima di Max contro Mario Ok, sarà tosta? Vediamo quanto è bravo Mario Mario, secondo me, è un tipo versatile Non è né tecnico, né potente, è tutto tondo come in tutti i suoi giochi Salto medio, tutto medio No, 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 che è successo? Di grazia, vi spiegate cosa è successo? Dato che avevo il super colpo carico e l'ho premuto? Mario, che ti succede? Stai stranito? Ehi, bazooka, oh sì Meno che non è un tubo Un tubo bazooka, certo Devo credere che l'allenamento mi abbia fatto bene? Posso crederlo? Sì, perché insomma sto a livello 57, 58 ormai, 59, quanto sta? Eh sì, è un martello, è un bazooka, non si capisce che roba è Devo mettere a rallentatore per capire che roba è Quando monterò il video vedrò che roba è Mi interessa giusto così, perché non mi ricordo proprio Questo gioco l'ho fatto sì, tre volte l'ho giocato in tutto Ma cioè, a ricordarsi Tutte le cose dopo anni e anni che non lo tocchi Non è semplice Non è come Pokémon che ogni anno mi faccio una run dovunque Più o meno eh, senza esagerare Però, per dire che talmente tante volte l'ho giocato È un martello È un martello, talmente tante volte l'ho giocato Pokémon che lo so a memoria È un martello comunque, sì Bene, non serve neanche che metta in pausa il video Oi Posso fare un super... Non riesco a fare un super colpo di tiro Solo di difesa Mario Mi hai un po' seccato Fammi fare Sbemme te Non facciamolo come con Bowser però eh Cioè sì, scambi belli magari ma non troppo lunga Va bene Mario, ti voglio bene però eh E poi tra l'altro Questo e il gioco per i Game Boy Sono gli unici giochi di Mario che io abbia mai giocato seriamente per finire Perché gli altri li ho provati non essendo miei Quindi non ho neanche avuto voglia alla fine di finirli Perché non erano all'altezza secondo me Degli altri che avevo già giocato Per Game Boy Advance e per Game Boy Color, certo Vai, sta andando piuttosto bene Va bene, va bene Quindi lui si sposta al centro anche Wow, perché è così distante Mario? Che è successo? Mi vuoi copiare? Niente, vabbè Ho capito Con lui non riesco a fare un super colpo di tiro Ma solo di parata Va bene Per carità Mi va benissimo Finché riesco a prenderla Aiii Cavoli E bravo Mario Eccolo Finalmente Finalmente Eccolo Grande Vai Bello questo super colpo Però forse ce n'è uno ancora più efficace Oh iicce Ah che cavolo Mi ha fregato Ok Allora Mario Facciamo a capirci Eh eh Sì 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 amico mio Sì Hai capito bene Ok Presa Grande Ok Calmati Terza partita Quindi se vengo questa è fatta E anche stavolta non l'ha presa Io faccio causa al Nintendo Cioè Per forza Non esiste Eccolo finalmente Eh vabbè sì Non serve a niente Però Eccoci dai Non serve a niente Che ho male la mano ragazzi Non avete idea Vabbè Anche perché a forza di giocare Con due massimo tre dita Questi giochi così no E tutto quello che ho fatto ieri Per apportare il PG A livello che è adesso Insomma Inizio a sentirsi Ecco dai Diamoci da fare Allora Venta Finita È finita Grande Bene 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 Oh perfetta questa Perfetta proprio Guarda La chiudo con il livello 60 Dai Livello 60 Fatto 61 non mi piace Quindi diamo il resto a Tina No tesoro Non farò il doppio Potenza Vai E servizio Perfetto così Tutto in potenza Tanto a te non ti userò mai Mi dispiace cara E dispiace Spero che a voi non dispiaccia Perché a me non dispiace per niente Di aver finito Ora puoi scegliere Di giocare nel palapitch Nel pitch dome In inglese Non lo so Non è importanza Perché ho vinto Grazie Balzarottica Ogni volta Congratulazioni Grazie Grazie a tutti. 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 Non so se la riprenderò mai in mano, ma di sicuro è stato bello portarlo sul canale. Amici, io vi ringrazio per aver seguito la serie, spero che vi sia piaciuta. È durata quel che è durata, ma non è importanza. Ad ogni modo in descrizione trovate come sempre tutti i link necessari e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye.